La moto gialla, una Ducati 748, smembrata in mille pezzi nell'impatto, il serbatoio, il casco, la ruota, schizzati a decine di metri di distanza in diverse direzioni. Le istantanee del terribile schianto. A morire sul colpo è il papà di una bimba di appena due anni, Manuel Bolzonello, 37enne di Trevignano. La tragedia si è consumata poco prima delle 14, lungo la strada provinciale 667, nel tratto in via Cadore di Caerano San Marco, di fronte ad un distributore di metano. Bolzonello stava percorrendo la via in direzione cornuda quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una BMW condotta da un 22enne che procedeva nello stesso senso di marcia. La collisione ha fatto perdere al 37enne il controllo della moto. La sbandata e l'impatto tremendo contro la ringhiera d'ingresso del distributore. Uno schianto che ha di fatto sradicato dal terreno la pesante struttura in ferro. I testimoni atterriti hanno chiamato subito i soccorsi, ma il personale medico del SUEM 118, arrivato a Caerano in pochi istanti, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista, morto sul colpo. I rilievi durati a lungo sono stati effettuati dai carabinieri di Montebelluna che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente per cercare di capire perché moto e auto si siano urtati. Il traffico, completamente bloccato nella provinciale, è stato fatto deviare nelle vie adiacenti mentre si attendeva di rimuovere la moto completamente accartocciata, nell'ennesima tragedia stradale della marca, la croce numero 36 da inizio anno.